Salve ragazzi, allora mi stavo vedendo la partita, sto qui al ristorante, sono uscito un attimo per fare video, sto allontanato un po', e niente ragazzi, purtroppo pensavo di andare in Europa League, invece alla fine Roma ha vinto con rigore di Dybala, con rigore di Dybala e niente, comunque l'abbiamo under culo, andiamo in conference, andiamo in conference e questo è quello che ci tocca, eppure la Juve ha fatto una buona partita oggi, diciamo è stata una partita più movimentata del solito, ci sono stati i capovorgimenti, di qua e di là, è stata una partita un po' così, però niente ragazzi, purtroppo ci tocca la conference, io spero, guarda, io sinceramente non l'avrei, manco avrei fatta io la conference, ora vediamo la UEFA se ci squalifica, come hanno detto, si è, ma io sarei più contento se ci squalifico perché sinceramente a farsi una conference, veramente, pietà di Dio, ma che cazzo di coppa di merda è, cioè veramente è una cosa indegna, perciò non la vedo buona io sinceramente, non la vedo buona e niente, non la vedo buona purtroppo, non la vedo buona, e non, niente, mi scoccia perché io sta cazzo di coppa non la voglio fare, non la voglio fare, questo è quello che veramente è comunque raga, niente, è nata così, e alla fine pure la sfiera del 2 a 0, la sfiera del 2 a 0 coso è l'argentino, che ora va via, come cazzo si chiama, di Maria, e via comunque ragazzi, niente, io sto qui al centro, al centro, un po' spostato un po' più su se sta uno che canta Arvis Plesri là c'è sta il casino, qui c'è il casino qua, e noi stiamo qua, il ristorante è qua, Michele sta là, mi sta aspettando e niente, ora fra un po' maniamo, se fanno una bella matriciana, ci stanno degli italiani che mancano e niente, capito, sono le dieci, qui sono le dieci passate, fra un quarto d'ora manieremo, ok raga qui stiamo sulla parte alta del Corraleco, ok, comunque, questo è il quanto raga, io non lo so, l'Atalanta ha stravinto, la Roma ha vinto non so, stavo a perdere 1-0 contro una squadra che è veramente da morti cioè alla fine un rigore l'hanno salvata dalla conferenza, ma ti rendi conto? purtroppo è così, però da una parte ci sta bene perché, come si dice, abbiamo buttato via tante occasioni incredibili ma adesso voglio vedere se veramente ancora siamo quarti con i dieci punti, lo devo vedere perché ancora non ci ho fatto caso voglio vedere se siamo ancora quarti, così vediamo sto cazzo ad Allegri se c'è ancora la scusa che siamo quarti di qua e di là, ok ragazzi io vi saluto, ci vediamo alla prossima purtroppo, peccato per sta cazzo, la UEFA l'avrei già accettata ciao raga